No, finito è morto Raga, baba, raga, manca pochissimo l'evento, vento, perché io non posso fare la live, perché 2 minuti e 50 Cioè, raga, comunque, cioè, volevo dire che io non riesco a farla live, cioè, più con troppi server occupati, quindi io non riesco a farla live, quindi, se risolve non riesco a farla live, ho deciso di non farla live, ebbene sì, ho deciso di non fare la live, ma fare un video, semplicemente un video, che certi potranno rivedere tutto, oh, sanno, eccola, eccola, ok, in questo momento mi sa che stiamo, vediamo, allora, l'evento dovrebbe partire da lì, mi sembra, oh, mamma mia, eccoci, ormai ragazzi siamo nell'evento, basta, aspetta che faccio un balletto per commemorare, eccoci, oh, 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 oddio, oddio, eccoci, 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 guarda, c'è Mida che sta, dov'è Mida? Non lo so, però guarda, oddio, no, Mida non sai dov'è, ah no, anch'io devo, eh? Non ho capito, eh? Sì? 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 E adesso dov'è, durerà tipo 20 minuti, non vedo l'ora, eh? Eh? Eh, ma è un gioco, è un gioco visto, manca un minuto, tanto Mida sta un po' convapulando, ragazzi, eh, intanto vorrò vedere un po' l'evento, per chi lo vuole rivedere, venga nel mio canale, non andate a vederle live, ah, forse ho capito, sai che ho capito? Cosa? Forse toglieranno la tempesta, non lo so, ma cosa stai dicendo? La tempesta c'è dalla, c'è dalla, c'è dalla, dalla season, ormai c'è dalla primo season, da quello che so, cioè non possono toglierla, ma sei tu questo qua? Sei tu questo qua? Ah no, tu mi dai, eh, il timbolo roto, non sei tu, mi sa, ah adesso c'hanno toglie, perché io ho il piccone baggato, non mi dà il piccone, non so perché, ah sì, a volte me lo dai, a volte no, ok, ok, ma tu sai come si fa? Ma si può volare, tu come hai fatto ad arrivare sopra? Ah no, è vero, scusa, arrivo, eccoci, ti vedo, eh, non riesco ad arrivare di sopra però, mannaggia, devo anche, eccomi, qua, no, non riesco, aspetta, come si può? Perché è lì? Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, eccoci qua ragazzi, eccolo! Ragazzi, eccoci qua, di sopra, adesso vediamo tutto l'evento, cioè, però volevo un cavolo, dovevo mettermi in mida, dovevo mettermi in mida, dovevo mettermi in mida per l'apposito evento. Oh, eccolo! Eccolo, eccolo, è qua! Sì! Sta arrivando, non ci credo, che scatta! Oh! Io non lo vedo! Eh no, cioè, però vedi il rumore, io non lo vedo neanch'io, ma dov'è? Eccolo, eccolo, eccolo! Lo vedi? È quello là! Oddio, oddio! Dov'è? Shu- alloc'io del Pasqua c'è Mi sta vibrando i joystick? Che figata? Oh mamma mia! Oddio cos'è Oh cos'è aspetta ma dove siamo Oddio ma ci è voluto così poco Oddio Oddio Madonna come non so cosa Anch'io madò cos'è questa cosa qua Esploda la densia di un sfitto Questa cosa C'è no vabbè ma così C'è io ci sono rimasto male Oh Io sto fluttuando Oh io sto fluttuando Non so te ma io sto fluttuando Oddio guarda il cielo Oddio lo so Guarda la palla Guarda la palla che c'è Madonna Quanti collegamenti Madonna vabbè cos'è Vediamo come è diventato un pozzo Sì il pozzo È un punto preferito di tutta la mappa Dove siamo? Ma tu sei in un ufficio Non lo so Oddio io non ero comparso in un ufficio Non so perché Cosa sta succedendo? No O cos'è? Pinto tutto? No No adesso piove Piove Sì ma così Proprio alla casa Inaspettatamente Non lo so ma guarda Cioè vabbè ma cos'è? Cos'è? La guarda la tempesta È un Cioè Sta facendo un casino Madonna Raga Cioè no raga Oh bro Cioè Io mi aspettavo la vecchia mappa Cioè no la mappa è sempre la stessa E noi siamo In 3000 all'agenzia Ah ma è solo È finita così? Oh no 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 Non è tutta fuori la mappa Eh non ho capito È finita così è rossa Eh sì sono l'agenzia Madò ma cos'è Ehm no non c'è niente di stabile qui Siamo a Genis Genis Imposta l'attivatore di risonanza 7.2 Ora per favore Sì proprio C'è vita che parla Sì è vero è vero lo sento Aspetta un momento momento Non è solo una tempesta E questo cosa significa? Cosa? Che figata Deve esserci una correlazione con il gruppo Non avremmo mai potuto prevedere Una reazione No vabbè Sì ma la voce non è Cioè la voce poteva essere un po' più inquietante Secondo me Ma no Quella è la pericolosa Vabbè Sì guarda le acque Guarda le acque San Guarda le acque Intanto vabbè I generatori si sono già alzati Ma Guarda Mamma mia È uno tsunami Un cerchio tsunami tipo Cos'è? Brutus è di malgrito Ma cosa Ma cosa stai dicendo? Io non vedo Brutus Bene Ho visto un Brutus Inizia a stabilizzarsi Sembra che nulla Chi è tu qua? Ma che Ma come Aspetta 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 Riesci Riesci a sentire Riesci a sentire Oddio Ma cosa Ma io non ci sto capendo Quasi una ceffa E cos'è sta voce? La vecchia mappa Ma quale vecchia mappa? La vecchia mappa Quale vecchia mappa? Io non la vedo La vecchia mappa è stata Tutta sull'acqua È vero Questa è la vecchia mappa Aspetta No non mi sembra No Vedi l'acqua è salita Sulla l'agentia Io mi son buttato la caso Ho una pistoletta comune Non so No L'agentia è rotta per sempre Eh ma cosa Addio 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 All'agentia è rotta per sempre Eh non ho capito Ah ma qua è finita proprio così Bro Non è stata una bella fine Odiamo vedere come è diventato il boss Oddio il boss è vero Ma come facciamo Si può volare? No poi vogliamo la partita Io voglio stare un po' qua Uffi Ma non è che posso Ma è finito sul serio L'evento Madò che figata Vabbè aspetta che qua faccio la mia scelta del cavolo Che tanto non me ne frega Niente Asan la mappa è questa Non ti posso dire nulla E' tutta lagata E' tutta lagata E basta Ok Perché sto parlando in bracciano Ma torna ora alla lobby Eh Asan Ok No Mi sembra di vedere qualcosa di strano Vabbè niente Torna alla lobby Io ho paura che l'evento non sia finito E' il season Ma è durato poco però Ecco quando volevi che duravano ora Vabbè Comunque Quando è che arriverà la season Però Non lo so Vabbè Comunque l'evento è stato qualcosa di figlio Il dispositivo Possiamo ancora andare nella mappa dove c'è il dispositivo Ah ma c'è solo la mappa del dispositivo Asan O ci ritriamo Non è il lama O mi dice che non è il lama che stai cercando Lo so E niente ragazzi Io spero che mi sia piaciuto questo video sull'evento Abbiamo fatto il video dell'evento completo Cioè l'evento praticamente in sé E niente Io spero che questo video vi sia piaciuto La season non so quando sarà Ma ci sarà Intanto la mappa è qualcosa di veramente strano Se la vogliamo mettere così Però Vabbè Io spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi